Ma ricominciamo sicuramente da dove avevamo lasciato, naturalmente avevamo già avviato un lavoro importante che è stato proseguito in questi mesi di sospensione dal settore, le emergenze sono tante, il lavoro da avviare è tanto, ma la sfida è interessantissima e penso che con la guida di Abramo e con il sostegno della maggioranza riusciremo a raggiungere dei traguardi importanti. Sì, il mondo del volontariato è cresciuto molto in questo periodo, in questi anni, la città ha un volontariato molto presente, molto attivo che vuole dare una mano e noi dobbiamo cogliere questa disponibilità, questa grande competenza e lavorare insieme perché penso che insieme si possa fare molto, ognuno da solo può raggiungere sicuramente risultati di gran lunga minori. Io sono molto grata al sindaco e a tutti i consiglieri eletti della nostra lista, Cananzaro per Abramo e li voglio ringraziare qui pubblicamente per avermi consentito di ricominciare questo lavoro in un settore chiave e quindi spero di essere all'altezza e di rispondere alle attese che questa città ha.